Hypergrinder firma lucidatrici e levigatrici di alta professionalità. Massima è la prestazione delle macchine per la lucidatura e la levigatura di pavimenti e altre superfici progettate e prodotte dall'azienda Hypergrinder. Completano le linee dei macchinari anche utensili e prodotti chimici per la continua manutenzione e la pulizia. Tra le scelte strategiche e aziendali c'è quella di essere vicini ai propri clienti anche nella trasformazione tecnologica in corso e di dotare ogni strumento di tutte le funzionalità digitali necessarie a un monitoraggio sicuro, snello e altamente produttivo. Le nuove linee sono infatti progettate con tecnologia 4.0 in modo da garantire l'effettivo e continuo controllo di tutta l'attività. L'azienda da anni presente anche quest'anno firma la sua presenza come espositore alla manifestazione dedicata alla lavorazione elitica per eccellenza a livello internazionale Marmumac 2023. Come sempre l'occasione è ottima per mostrare ai propri clienti le novità realizzate in casa Hypergrinder. Titan 500 è la levigatrice monofase molto compatta e performante con planetario monodirezionale con possibilità di variare la velocità. Ideale per levigare piccole e medie superfici in marmo, granito e cemento, per la preparazione di pavimenti industriali, per la lucidatura a specchio e l'eliminazione di vecchie colle e resine. HGE 850 AD è una levigatrice planetaria radiocomandata per grandi superfici. Consente di cambiare la velocità, di regolare la pressione del lavoro, ha batterie integrate e il pilota automatico. Planetario e riduttore sono ad ingranaggi d'acciaio temperato. Si può inserire la terza ruota per lavorare su superfici sconnesse o per facilitare il trasporto. È una macchina compatta e maneggevole, perfetta per la levigatura e preparazione di tutte le tipologie di pavimenti, rimozione di irregolarità sul calcestruzzo, rimozione di resine, colle, vernici e altri residui, lucidatura a specchio su marmo e granito, lucidatura a specchio su pavimenti industriali in calcestruzzo. Hyper Orbit CT è una levigatrice e lucidatrice manuale roto-orbitale. È lo strumento ideale per una lucidatura perfetta su diverse superfici, inclusi top, banconi, scale e spazi ridotti in quanto offre massima versatilità. È particolarmente adatta per la pulizia di superfici delicate come mochette e tappeti e garantisce risultati impeccabili. Può eseguire lucidatura, deceratura, cristallizzazione e microlevigatura su una vasta quantità di materiali, tra cui marmo, cemento, pietre, parquet, cotto e grass. La tecnologia roto-orbitale rende Hyper Orbit CT una macchina progettata per movimenti precisi e uniformi, in grado di garantire risultati professionali e finiture di alta qualità, con rapidità ed efficienza, superfici lisce, brillanti e prive di imperfezioni. Inoltre è costruita per ridurre il consumo di energia, acqua e di prodotti chimici, dunque il suo utilizzo porta nel tempo ad un risparmio economico interessante. Hyper Edge è una levigatrice perimetrale a doppia testa contro rotante, ideale per la preparazione delle superfici, rimozione, colle e resine, levigatura e lucidatura in spazi ridotti a filo muro. Permette movimenti a ridosso del muro di massima precisione e in pieno comfort, grazie alle sue ruote pivotanti e regolabili in altezza. Ha le rotelle guida frontale e al comodo manico inclinabile. È facile da usare, è perfettamente bilanciata, riduce lo sforzo fisico e velocizza il processo di levigatura, perché riesce a coprire facilmente più metri lineari in minor tempo. Garantisce effetti omogenei su tutte le superfici, anche in presenza di irregolarità. Forte di un grande bagaglio di esperienza in pochi anni, Hyper Grinder è diventato il punto di riferimento internazionale per le attrezzature per la levigatura e la lucidatura di pavimenti e di superfici e questo è possibile grazie all'impegno quotidiano profuso dall'azienda nel cercare nuove soluzioni, nell'implementare nuove tecnologie sempre più avanzate e nella progettazione e produzione interna. Tutto questo consente di rispondere in modo tempestivo e con anticipo alle più specifiche richieste del settore. Versatilità e integrazione di tecnologie, macchinari e sistemi crea soluzioni innovative ed efficienti.